Ma innanzitutto grazie, grazie dell'invito, grazie dell'occasione, grazie della serata che per noi è di racconto ma è anche e soprattutto di ascolto, forse parto dal fondo rispetto a quello che è il tema della serata, ma noi abbiamo avuto modo in questi 11-12 mesi veramente di girare, grazie a questi inviti e anche grazie all'insorgiamo tour che abbiamo lanciato, un pezzo importante del paese e forse saremo faciloni noi, forse perché mettiamo il naso fuori dal nostro provincialismo, ma noi troviamo sempre delle realtà vive, militanti, solidali, numerose, sul pezzo, come si dice in fabbrica, importanti e tutte le volte torniamo a casa con la solita ossessione, con la solita domanda, ma quanto ci vorrebbe poco a unirci e a determinare un autunno diverso vista la situazione che stiamo vivendo, però forse sono partito dal fondo, però è la sensazione che abbiamo sempre a pelle, in realtà come GKN noi abbiamo abbandonato il nostro settorialismo, ma dobbiamo essere onesti con noi stessi, è stata tanto la situazione oggettiva che ce l'ha fatto abbandonare, perché comunque la nostra fabbrica come tante altre in questo momento nel paese, era una fabbrica di contrattazione aziendale importante, era una fabbrica dove si strappavano i premi di risultato, era una fabbrica anche con una serie di diritti che tenevano all'interno della fabbrica, noi addirittura avevamo strappato il fatto che fosse applicato un accordo di miglior favore dove si applicava l'articolo 18 del 1970 in fabbrica e quindi inevitabilmente dopo anni di questa vita piano piano ti settorializzi, resisti, ma tutto sommato inizi a pensare che forse non è così difficile arrivare in questo stato fino alla pensione, se ogni tanto tiri qualche bestemmia per l'ennesima controriforma che te l'allontana, però ti siedi su questo stato di cose, la verità è che il sistema nelle sue mille sfaccettature ci ha tolto giorno dopo giorno il diritto al settorialismo e la chiusura in noi stessi e quindi diamo a Cesare quel che è di Cesare, nel 2018 arriva un fondo finanziario, ultima espressione del capitalismo finanziario più sviluppato, non che prima chi ci possedeva fossero dei gentiluomini, la maggioranza era posseduta da un fondo obbligazionario scozzese, però arriva l'evoluzione della bestia, il fondo finanziario che deve comprare, acquisire, ristrutturare e rivendere per determinare un rialzo azionario e quindi deve dimostrare agli azionisti di poter ristrutturare, questa ristrutturazione passa ovviamente anche dalla possibilità di chiudere la fabbrica. Arriva il fondo azionario non a caso nel settore dell'automotive, perché nel settore dell'automotive si producono e si prevedono 300.000 posti di lavoro in meno e quindi per il fondo azionario i licenziamenti sono un business, noi producevamo semiassi, loro producevano business attraverso i licenziamenti e il meccanismo finanziario che questo determina e si giustifica ovviamente non solo lui ma tutta la ristrutturazione nel settore dell'automotive con la cosiddetta transizione ecologica che fanno loro, che non è né ecologica né transizione, però la usano per non risolvere il problema della giustizia climatica e in compenso creare ancora più ingiustizia sociale distruggendo posti di lavoro nel settore dell'automotive noi ci siamo sempre un po' paragonati molto umilmente ai minatori della Thatcher dove sono state chiuse le miniere il mondo non è più verde e in compenso ci sono meno diritti a dimostrazione di quanto usino in maniera strumentale il tema ambientale e quindi già così fondo finanziario, transizione ecologica, migliaia di licenziamenti, Stellantis che determina questi licenziamenti perché di fatto si ritira sempre di più dal mercato dell'auto, già solo questo ti pone di fronte al fatto che per difendere il tuo posto di lavoro devi chiederti in che mondo lo stai difendendo, cosa pensi della transizione climatica, puoi arroccarti in una posizione che non è solo umanamente scorretta anche sindacalmente scorretta nel dire no andate avanti a produrre le auto così come sono o sfidi il capitale sul terreno anche della giustizia climatica e sostieni che sì la tua fabbrica potrebbe continuare a produrre con quei diritti e addirittura più poste di lavoro ma per esempio inserita in una filiera produttiva pubblica di un polo pubblico della mobilità sostenibile che non prevede la sostituzione di tante macchine individuali endoterminiche con tante macchine individuali elettriche ma forse proprio un altro tipo di mobilità complessivamente diversa e anche laddove poi improvvisamente noi pensavamo nello scontro col fondo finanziario di aver raggiunto dei punti di equilibrio perché noi scioperiamo il 14 febbraio 2020, in 200 assediamo la regione toscana e strappiamo un accordo sindacalmente avanzato che tutelava gli staff leasing precari che avevamo, facciamo questo accordo il 14 febbraio 2020 tempo un mese, anzi meno di un mese, siamo tutti a casa in lockdown quindi come dire pensavamo di aver raggiunto un accordo sindacale che ci tutelava i precari vengono lasciati a casa con un whatsapp e noi diciamo ai colleghi fissi guardate come hanno trattato loro e come tratteranno noi e sembrava di dire chissà che poi rientriamo e nel luglio 2020 facciamo un'altra settimana di scioperi articolati 8 ore articolate in 15 minuti reparto per reparto e strappiamo un altro accordo sindacalmente avanzato dove si diceva che avevamo diritto al preavviso, che non ci sarebbero stati licenziamenti tempo un anno, dopo ben 40 incontri e non so quante prese in giro appena si sbloccano i licenziamenti chiudono la fabbrica e ci lasciano fuori quindi se qualcuno pensa che noi siamo arrivati all'abbandono del settorialismo per convinzione politica ideologica che peraltro abbiamo, abbiamo delle convinzioni politiche ideologiche non è questo il percorso, noi abbiamo perso il diritto al settorialismo assediati letteralmente dalle condizioni oggettive di questo sistema e allora poi quando ci hanno chiuso e come ormai è noto siamo rientrati di fatto occupando la fabbrica e autogestendola e lì perdi ancora di più il diritto al settorialismo perché per reggere 11 mesi in assemblea permanente, il 9 luglio saranno 12 e quindi reggere come comunità che devi chiedere come dirigeresti tu la fabbrica come porteresti avanti la manutenzione, ma ti devi anche prendere cura l'uno dell'altro e quindi problemi di natura per esempio di salute mentale non possono più non far parte del tuo orizzonte perché sei chiamato a stare appiccicati insieme in testugine nel cercare di resistere all'attacco del sistema e quindi da quel momento in poi lì parlare di questione ambientale, collegarsi ai movimenti territoriali collegarsi alle altre vertenze ovviamente diventa ancora più fondamentale e abbiamo perso anche un altro diritto al settorialismo e mi fermo qua per il momento che è il diritto al settorialismo diciamo di organizzazioni diverse noi improvvisamente misuravamo il tempo in anni, quanto lavorerò qua, quanto tempo ho per cambiare l'esistente e poi improvviso quel 9 luglio il tempo lo misuravamo a giorni noi avevamo 75 giorni prima della chiusura definitiva e dovevamo ribaltare tutto il licenziamento, i rapporti di forza, le leggi che c'erano dietro a quella possibilità e lì improvvisamente inizi a superare screzzi di natura personale ma anche screzzi tra organizzazioni sindacali diverse, tra correnti sindacali diverse stai sul pezzo nel merito di quello che devi fare e riconosci le tue compagni e i tuoi compagni nella lotta e nella lotta hai continuamente la misura di chi sta realmente con te e di chi non sta con te anche se apparentemente parte da posizioni molto diverse e quindi siamo ancora qua, nel frattempo in questi 12 mesi abbiamo visto una quarta ondata covid, il mondo attorno a noi spaccarsi in green pass sì e green pass no e ora una guerra mondiale che è un concetto che noi non agitiamo spesso più che altro perché troviamo egoistico chiamare guerra solo l'ultimo capitolo mediatico e più spettacolare di in realtà un conflitto mondiale che va avanti da anni, non solo in Ucraina ma c'è un escalation di fatto a cui noi dobbiamo trovare ogni modo di opporci legando l'opposizione alla guerra al tema dei posti di lavoro, della riduzione della parità di salario della scala mobile, della giustizia climatica e la verità è che noi non abbiamo mai avuto il diritto come vertenza di sopravvivere come un punto isolato e tutt'oggi è ancora così noi stiamo presidiando una fabbrica ferma, da quel 9 luglio non è ancora uscito uno spillo non abbiamo produzione, non abbiamo la possibilità di scioperare tutto ciò che salva la nostra vertenza è questo aver detto insorgiamo e aver detto insorgiamo e convergiamo insieme ma noi crediamo che se ci fate mente locale questo non sia soltanto il nostro caso particolare di GKN ma è il caso di tante lotte in questo momento nel paese l'abbiamo ripetuto così tante volte che è diventata una frase fatta nessuno si salva da solo e fuori dalla mobilitazione non c'è salvezza grazie mille grazie mille Dario